Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo. Con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti. Basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Buongiorno a lei, buongiorno insomma a chi è che scrive in chat, a chi è che mette like, che fa sempre bene, dà sempre una mano alla crescita del canale. Buongiorno ovviamente anche a chi non mette like perché è una brutta persona, si vede che non gli piace quello che facciamo qua. Vabbè, detto questo, sicuramente dobbiamo partire sulla vicenda dell'arresto di Matteo Messina Denaro. È un elemento sicuramente con cui dobbiamo partire oggi, perché alle nove e mezza è arrivata questa notizia, prima rituitata da Crosetto e poi successivamente confermata anche da un tweet di Palazzo Chigi che appunto andava a informare la cattura del latitante dal 1993 con appunto un comunicato da parte di Giorgia Meloni che è comparso appunto sul sito del governo italiano. È un qualcosa su cui riflettere secondo me perché è un elemento che spesso e volentieri è stato utilizzato dal Movimento 5 Stelle per andare a inficiare l'opera di Fratelli d'Italia o comunque della destra in generis. Sicuramente c'è un parallelismo che potremmo fare tra l'opera promossa appunto da la destra italiana e quello che abbiamo visto con Angelino Alfano. Sicuramente la prima cosa che mi è venuta in mente pensando a questa vicenda è appunto questo elemento. Poi non vuol dire che sia un fattore positivo, non vuol dire che sia una causa o una correlazione di chissà quale livello. Potrebbe essere anche una correlazione scuria, però sicuramente è un elemento su cui riflettere e su cui dovremmo riflettere un pochino tutti. specie perché spesso e volentieri la destra viene definita come favorevole e maifiosa e invece in questo caso vediamo che appunto questa cosa non sembra essere successa. Ovviamente sui giornali italiani per quanto riguarda la stampa cartacea questo elemento non è emerso perché appunto alle 9 e mezza siamo stati informati quindi eventualmente domani leggeremo qualcosa anche sulla stampa cartacea. Sarà un elemento sicuramente principale in tutte le prime pagine del quotidiano vedremo chi è che lo tratterà dal punto di vista garantista chi invece si metterà dall'altra parte chi invece non prenderà posizione. Io personalmente scelgo di non prendere posizione a questo punto perché? Perché ci sono degli elementi che mi fanno riflettere. Mi fanno riflettere perché la domanda, la seconda domanda che mi è venuta in mente è ok abbiamo fermato uno dei principali latitanti capo mafia, boss mafioso eccetera eccetera però esistono dei motivi seri per cui un condannato in contumacia riesca a sfuggire alla lente dello Stato nascondendosi a pochi passi da casa? Ci sono elementi su cui riflettere? Specie se questa persona viene fermata in una clinica la clinica Maddalena Palermo che viene frequentata notoriamente da persone importanti della zona questo me l'hanno confermato anche alcuni utenti che seguono questo canale seguono il mio Instagram che vivono a Palermo e quindi conoscono meglio di me la situazione e quant'altro e in secondo luogo perché viene fermato soltanto lui e non altre persone? perché viene fermato quando ormai è in uno stato diciamo di malattia molto avanzata? perché ad esempio un altro elemento su cui riflettere è importante nella puntata di Non è l'arena del 5 novembre 2022 che non posso trasmettere qua su questo canale per ovvi motivi di copyright al minuto 39 quindi stiamo parlando di praticamente tre mesi fa circa contatti male si parlava appunto di questa situazione di questa possibile cattura ora io non voglio instaurare processi causali le mie domande sono veramente stupide ve lo confesso nel senso che non ho risposte e probabilmente sono domande banali però dovremmo interrogarci a mio avviso e secondo me lo Stato dovrebbe dare anche delle risposte risposte che capisco non siano semplici da dare e spesso e volentieri potrebbero anche coinvolgere diciamo delle persone che giustamente devono essere protette salvaguardate eccetera eccetera non voglio fare populista e vi prego di non leggere nelle mie parole del populismo però ci sono alcuni elementi su cui io non mi sento di mettere un punto fermo anzi di mettere tanti punti interrogativi vi inviterei ecco a riflettere in modo tranquillo su questo elemento perché c'è molto da dire c'è molto da dire e ci sono molte risposte che in questo momento non sembrano facili da raggiungere ecco nessuno dà risposte serie su questo tema se riesco porterò sul canale qualche esperto del settore per fargli qualche domanda magari anche in un momento un pochino più tranquillo non mi va ad inseguire l'hype su questo tema però sicuramente in un momento tranquillo mi piacerebbe discuterne con qualcuno in modo tale da riflettere a bocce ferme e poi porci delle domande porci delle domande darci possibili risposte possibili interpretazioni però ripeto alcune cose non sono chiare a mio avviso personale non sono chiare pur essendo completamente d'accordo non ho capito perché dite a pochi passi da casa qualcuno sa dirmi l'indirizzo della Villa Palermo pochi passi da casa per dire comunque che era in Sicilia certamente il fattore territoriale è importante in queste situazioni sicuramente la mafia trova nel fattore territoriale uno dei suoi elementi principali cardini però se penso ad esempio alla cattura di Rina non mi sembra che Rina fosse in uno stato di malattia se penso alla cattura di Provenzano e quella di Mattia Messina De Raro invece ci trova una certa correlazione questo è sicuramente spuria ripeto sicuramente spuria si è consegnato non sarebbe la prima volta che succede ecco Filippo questa è una interpretazione che mi piace molto di più devo dirti molto molto di più l'unica risposta che posso dare è abbiamo portato alla giustizia il capo mafia per eccellenza e questa è una buona notizia sicuramente è una buona notizia e non va sminuito il lavoro di chi si è messo in gioco per portare a termine questa importante operazione ripeto non mischiero neanche con quelli che vogliono fare del facile sarcasmo della facile ironia non mi appartiene questa questa interpretazione però mi sembra proprio che alcune cose non siano proprio chiare la più logica è che ormai ha perso il potere ed è stato scaricato come è successo a Provenzano giusto giusta interpretazione credo o comunque giusta risposta nel novero delle plausibili comunque si sta caurando speriamo che si costituisca così che venga giù la verità degli ultimi trent'anni ecco anche questo è un altro elemento nel senso che se si è costituito magari potrebbe anche fare qualche nome o comunque darci qualche chiave di lettura su qualche elemento poi so che i retroscena che si apriranno hai voglia sarà super divertente super divertente passando grazie a tutti